Buon pomeriggio, venerdì 24 novembre, ben ritrovati con Infostudio. Un omicidio di, sembra, chiara matrice mafiosa, quello per il quale è caduto ieri sera a Reggiolo, anzi per essere precisi, a Villanova di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, un uomo di origini calabresi, si chiamava Francesco Citro, aveva 31 anni, era originario di Torre Merissa, lo state vedendo nella foto, lavorava come autista. Ieri sera intorno alle 20 qualcuno ha dato fuoco all'auto della moglie di Citro, ha lasciato una tannica di benzina, quindi sulla matrice dolosa di quest'incendio non c'è equivocabilità. Tre ore dopo però, Citro fra l'altro si era dato da fare insieme ad alcuni vicini per spegnere il fuoco in attesa dei vigili del fuoco appunto. Poi era tornata la calma, ma tre ore dopo, intorno alle 23, qualcuno si è fatto vivo fuori dall'abitazione su via Papa Giovanni XXIII, una via interessata negli ultimi tempi da un'escalation criminale, quella della moglie di Citro, la terza macchina che va a fuoco in pochi giorni, e lo ha invitato a scendere in strada, lo ha chiamato. Citro ha aperto la porta, ma non ha fatto in tempo neppure ad uscire di casa, perché già per le scale c'era qualcuno che gli ha sparato a bruciapelo, freddandolo sul colpo. Per adesso questi sono i dettagli che si conoscono, questo omicidio certamente è ferato, sul quale andranno fatti approfondimenti. Stamattina il prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, ha sospeso il sindaco di La Mezzia Terme, Paolo Mascaro, ed il Consiglio Comunale dopo il decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica che dovrebbe emettere il decreto di scioglimento e dopo la decisione del Consiglio dei Ministri. Intanto è già stata nominata una terna di commissari che dovrà gestire il Comune. Si tratta di due prefetti, del prefetto Francesco Alecci che ha avuto l'incarico all'Aquila dal 2012 al 2016, del vice prefetto Maria Grazia Colosimo e di una dirigente, Desiree Dovidio. Ieri a Catanzaro si è parlato di migrazione in un incontro che era stato sollecitato dal forum del terzo settore. La Calabria, almeno da questo punto di vista, non solo non teme, ma neanche accusa ritardi nei confronti di altre regioni. Sarà la nostra posizione nel Mediterraneo, sarà l'accoglienza che è impressa certamente nel nostro DNA ed anche la capacità di organizzarsi nelle emergenze. Una Calabria accogliente ed inclusiva è il titolo dell'incontro che raccogliendo l'invito del forum del terzo settore, l'Ufficio per il Partnariato della Regione Calabria ha promosso presso la cittadella regionale come momento di confronto fra organizzazioni ed associazioni che si occupano di politiche dell'integrazione ed accoglienza dei migranti. Negli ultimi anni in Calabria sono state messe in campo numerose azioni in favore dei migranti, tanto da riscuotere anche il plauso dell'Unione Europea, di solito non molto prodiga di elogi e complimenti nei confronti della nostra regione, soprattutto per la gestione delle emergenze e nell'accoglienza dei minori non accompagnati. Ovviamente in tutti gli interventi centrale è stato il tema dell'integrazione che ne richiama altri come lo sviluppo del territorio e la legalità. Per l'assessore regionale al welfare Federico Roccisano, l'esperienza di amministratori ed appartenenti alle associazioni ha arricchito la Calabria, che su un problema così complesso ed epocale è probabilmente una delle regioni più avanzate tecnicamente e culturalmente. Quando ci sono le persone che realmente realizzano le esperienze come l'UNHCR, come sono le buone pratiche che provengono dalla rete di protezione degli immigrati, dai comuni e dagli amministratori che hanno attivato il progetto STRAR, da Mimmo Lucano e dal comune di Riace, oltre ad avere delle informazioni aggiuntive abbiamo anche della formazione, perché la sala è piena di sindaci, di operatori che lavorano essenzialmente nel mondo dell'immigrazione e che si impegnano quotidianamente per fare il loro meglio, per integrare e accogliere le persone che hanno vissuto momenti realmente difficili, che hanno spinto i loro figli da una parte all'altra del Mediterraneo rischiando forse anche di non vederli mai più. E noi come regione vogliamo realmente essere una regione accogliente che non solo fa tesoro delle buone pratiche, ma le mette a sistema. Questa io penso che sia realmente la sfida, fare in modo che non ci siano semplicemente delle eccellenze sparute nel territorio della nostra regione, ma mettere a sistema e fare una rete reale, vera, concreta, di accoglienza, ma aperta, aperta realmente a tutti gli operatori, ai lavoratori del settore, a nuovi comuni che devono essere sempre di più, perché è davvero una ricchezza accogliere gli immigrati, perché permette di non chiudere le scuole con il dimensionamento scolastico, di aprire gli asili nido, grazie ai fondi PAC, perché ci sono dei bambini piccoli che fanno numero, e Riace in questo senso è un esempio, e sono realmente un tesoro per l'umanità, ma anche per la nostra regione, per la regione Calabria. I numeri dicono che continua a crescere la volontà dei comuni calabresi di mettere in atto progetti che favoriscano i processi di integrazione e di accoglienza. Ed in tal senso il cosiddetto modello Riace è stato ed è tuttora un esempio di come l'immigrazione possa essere trasformata da timore irrazionale in un'intuizione, un progetto per ripensare e ridisegnare il futuro, ripopolare borghi altrimenti destinati alla sparizione e riprogrammare l'idea stessa di paese. L'esperienza da cui io provengo, vissuta in prima linea poi, dimostra che ci sono tantissime cose che sono migliorabili e che soprattutto si dovrebbe tenere conto di quello che veramente avviene a livello territoriale. Io immagino sempre che questa famosa cabina di regia non deve essere qualcosa che è posizionata a livello centrale da cui tutto dipende o addirittura da funzionari che nella maggior parte dei casi non hanno mai vissuto il rapporto diretto con i rifugiati, come io l'ho vissuto ogni giorno da oltre 20 anni e che conosco bene i nostri territori, sono sindaco, io l'ho ribadito nell'intervento che noi siamo obbligati ad avere una visione collettiva sul territorio, uno sguardo che non può essere uguale a quello di chi gestisce, che ha un'attività, una cooperativa, un'associazione o semplicemente guarda nell'ambito molto più rispetto. È un po' una storia unica nel suo genere perché non si limita ad un'attività molto circonscritta ma è un'attività globale che coinvolge una serie di interlocutori sociali che hanno gli stessi proprietari delle abitazioni abbandonate, i rifugiati stessi, gli operatori sociali e la rinascita di una comunità. Quattro mesi fa, il 25 luglio scorso, a Crotone c'era stata una rapina a bottino 1800 euro nel supermercato Eurospin che si trova alla periferia sud della città, periferia nord, meglio ancora, della città. Ebbene, oggi, visionando le immagini che state vedendo delle telecamere di sorveglianza della struttura ma anche di alcune telecamere della zona, la polizia ritiene di aver individuato i due responsabili. Ha arrestato Pasquale Viola, 31 anni, e Francesco Comito, 30 anni, entrambi di Isola Capo di Sud e con precedenti specifici che sono stati riconosciuti sia dagli indumenti ma anche da una menomazione fisica ad una mano di uno di essi. Si vede in questo video che avete appena potuto vedere fornito alle Forze dell'Ordine che hanno fatto irruzione nel supermercato col volto travisato da passamontagne e caschi e minacciando con una pistola una cassiera si erano fatti consegnare i soldi ripeto, circa 1800 euro i soldi dell'incasso. Erano arrivati su un motorino rubato. Poi si è capito sempre vedendo le immagini che nei pressi del supermercato poco prima della rapina c'era anche un'auto che è rimasta nelle vicinanze e su questa auto i due che hanno abbandonato il motorino sono poi saliti per dileguarsi. Individuata la pista precisi i poliziotti hanno pedinato e intercettato i due sospettati e hanno trovato riscontro alle loro ipotesi. A Gioia Tauro invece sono state restate tre persone Francesco Ianni di 37 anni Vincenzo Condello di 26 e Salvatore Infantino di 30 anni quest'ultimo è già detenuto per spaccio di droga e detenzione di armi. Indagini partite dopo un sequestro due sequestri di cocaina avvenuti nell'aprile del 2015 250 in un caso 308 grammi nell'altro l'ammontare dei sequestri ed è emersa l'esistenza di quest'organizzazione che era dedita allo spaccio di cocaina ed asci in un garage che era nella disponibilità dei tre all'interno del quale c'era tutta l'attrezzatura per confezionare le dosi bilancini di precisione diluenti per la cocaina e poi sono state trovate anche armi e munizioni. Dal primo dicembre però effettivamente noi ci siamo andati con il nostro smartphone e l'abbiamo visto cioè è già scaricabile sarà disponibile però è stata fornita questa data perlomeno noi a questa ci atteniamo anche se poi di fatto probabilmente si potrà già come dire procedere è scaricabile una app sia per iOS che per Android che serve per far parte di una comunità grazie alla quale si può viaggiare più sicuri sulla statale 106 per esempio segnalando qualsiasi tipo di criticità e a promuoverle stata l'associazione Basta Vittime sulla 106 per viaggiare più sicuri sulla strada statale 106 adesso c'è anche un'app si chiama Basta Vittime 106 come la nota associazione che l'ha creata e che da anni si batte per la sicurezza di quell'arteria e sarà disponibile dunque scaricabile dal primo dicembre prossimo grazie agli smartphone di entrambi i principali sistemi operativi dunque gli automobilisti potranno usufruire di una guida per viaggiare più sicuri e nel contempo potranno essi stessi contribuire ad elevare i livelli di sicurezza entrando a far parte di una comunità in cui ciascuno potrà segnalare qualunque tipo di problema sulla statale ionica l'app Basta Vittime 106 è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la cittadella regionale il presidente dell'associazione Fabio Pugliese spiega l'idea di promuovere la sicurezza stradale sfruttando la tecnologia grazie a un'azione collettiva virtuosa in grado di stimolare la partecipazione e la cittadinanza attiva un'app che sostanzialmente ci metterà nelle condizioni di far viaggiare i cittadini sulla strada statale 106 in maggiore sicurezza perché sono più informati sono più edotti su quelle che sono le criticità e allo stesso tempo mette nelle condizioni i cittadini di segnalare dei problemi e quindi di diventare parte attiva in questo processo diciamo di sicurezza stradale poi ovviamente ci saranno tante altre cose i video sulla sicurezza stradale un sacco di informazioni news eccetera quindi è una bella iniziativa per noi importantissima e alla quale tenevamo moltissimo un salto di qualità dunque per una battaglia civile che nel corso degli anni ha cercato di coinvolgere la popolazione e la potenziale utenza che ora potrà essere promotrice e fruitrice di un processo che può rendere più sicura la navigazione segnalando incidenti cantieri e qualunque altra criticità certamente l'app è un passo in avanti per offrire un servizio ai cittadini io ringrazio in modo particolare l'associazione Basta Vittime sulla 106 perché ha realizzato uno strumento utile che consente di fornire informazioni e oggi è al passo con i tempi un'app sul telefonino è ovviamente il massimo strumento che oggi di visibilità si può dare per la circolazione di informazioni riguardanti la questione della sicurezza sulla 106 è un'associazione molto attiva che fa proposte e questa ci sembra davvero molto molto utile oltre che interessante una proposta innovativa che punta a formare una comunità virtuale responsabile che può nel suo stesso interesse migliorare la mobilità e ridurre incidentalità e soprattutto mortalità stradale il nostro ruolo sarà quello di mettere la nostra competenza di vent'anni di esperienza e la nostra società per azioni a disposizione di tutti i danneggiati che hanno dei diritti lesi abbiamo appoggiato l'iniziativa dell'associazione e rientra proprio anche nella nostra mission di cercare di tutelare i diritti dei cittadini e quindi il nostro compito la nostra valutazione giuridica in questo campo sarà fondamentale ci sarà direttamente una sezione dove le persone i cittadini possono chiedere direttamente aiuto e noi con i nostri consulenti presenti in tutta Italia riusciremo anche di intervenire domani è la giornata nazionale della colletta alimentare una iniziativa che è iniziata a cura del Banco Alimentare soprattutto naturalmente da fondazione cioè Banco Alimentare nel 1997 che si svolge sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica facendo la spesa possiamo comprare generi di prima necessità sono naturalmente quelli insomma più comuni e di cui si ha più bisogno l'olio il latte la pasta il riso gli omogeneizzati i pomodori pelati insomma tutto ciò che serve e di cui non tutti gli italiani purtroppo dispongono per motivi economici in Calabria saranno oltre 4.000 i volontari sparsi in 560 punti vendita che poi distribuiranno quello che raccoglieranno ai 601 enti assistenziali accreditati al banco in Calabria ci sono censite ufficialmente naturalmente 114.339 persone che riescono a soddisfare bisogni primari grazie al banco alimentare quest'anno questa l'importanza enorme l'importanza sociale dell'iniziativa è stata sottolineata anche dal Presidente della Conferenza Episcopale il Cardinale Gualtiero Bassetti in un messaggio che stiamo per vedere unitamente allo spot a tre brani in cui fra l'altro quest'anno poi c'è un significato ancora più particolare della giornata nazionale della colletta alimentare che ricade a pochi giorni dalla giornata mondiale del povero che è stata indetta da Papa Francesco ci sono tre momenti appunto importanti in cui il Santo Padre sottolinea l'esigenza solidaristica nei confronti di chi ha fame per la precisione nell'Angelus del 12 gennaio del 2014 nel messaggio alla FAO che è rivolto appena un mese fa il 16 ottobre scorso e poi nel messaggio inviato alla Caritas sei mesi dopo essere stato eletto il 9 dicembre del 2013 non vi sembra che nel nostro tempo ci sia bisogno di un supplemento di condivisione fraterna e di amore non vi sembra che abbiamo tutti bisogno di un supplemento di carità non quella che sia contenta dell'aiuto estemporaneo che non coinvolge non mette in gioco ma quella carità che condivide che si fa carico del disagio e della sofferenza del fratello è molto importante l'opera del banco alimentare e va incoraggiata in tutti i modi perché da una parte noi abbiamo un'eccedenza di cibo ma l'eccedenza di cibo diventa indispensabile per chi non hacivo frente al aumento della demanda di alimenti è preciso che i frutti della terra stai a disposizione di tutti per alcuni bastaria con disminuire il numero delle bocate che alimentare e di questa maniera se risolveria il problema però questa è una falsa soluzione se si si tiene in cuenta il livello di desperdicio di comida e i modelli di consumo che malgastano tantos recursos riducere è facile compartire in cambio implica una conversione e questo è esigente la colletta è un gesto non solo importante ma direi che è un gesto di giustizia e fa sempre più piacere vedere che tutti gli anni questo gesto diventa più popolare vi partecipa la gente di ogni età di ogni condizione sociale e di ogni religione e questo è molto bello perché in fondo poi ecco mentre fai la spesa per la tua famiglia acquistare anche qualche cosa per i più poveri in fondo non te ne accorgi nemmeno e puoi fare un ben immenso a chi è veramente nelle necessità condividiamo quel che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto a affrontare numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno così primario e al tempo stesso facciamoci promotori di un'autentica cooperazione con i poveri perché attraverso i frutti del loro e del nostro lavoro possano vivere una vita dignitosa la tua spesa la scelta dei prodotti gesti consueti ma carichi di attenzione per te e per le persone che ami una volta all'anno puoi farla anche per le persone più bisognose scegli tra i cibi a lunga conservazione consigliati e donali ai volontari del Banco Alimentare sabato 25 novembre partecipa alla colletta alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus un gesto di solidarietà verso i più poveri grazie i volontari ritrovati nei supermercati hanno la pettorina gialla fosforescente sarà facile riconoscerli e allora questo per chi ha bisogno è anche per sentirci un po' meglio poi ci siamo noi che per fortuna di questi problemi non ne abbiamo e che pensiamo oggi è il Black Friday della settimana del Black Friday ormai perché non è solo un giorno cioè proprio il venerdì ma è tutta la settimana anzi qualcuno proseguirà anche oltre ma è proprio nel giorno del Black Friday che vi vogliamo parlare di un'iniziativa molto particolare che si svolge ad Amantea dove il Black Friday è organizzato non al chiuso di un locale di un capannone dei negozi ma all'aperto nel centro storico ad Amantea hanno avuto questa bella pensata i commercianti il cui presidente Daniele Marano è stato sentito per noi da Massimo Tigani in sala Piazzetta dell'emigrante al centro del corso di Amantea parte un segnale importante significativo con un valore che va al di là del futuro di Amantea e che può interessare senz'altro tutta la Calabria questo segnale parte dall'associazione dei commercianti che è presieduta dall'imprenditore dal giovane imprenditore Davide Marano qual è questo segnale lanciato dai commercianti di Amantea intanto ci siamo riuniti tutti quanti insieme ci siamo associati sotto questo marchio questo simbolo che abbiamo costituito che è Vivi Amantea che simboleggia il centro commerciale all'aperto siamo uno dei principali centri commerciali all'aperto della Calabria perché ci sono 300 attività ad Amantea tra negozi artigiani bar ristoranti pubblici esercizi e il messaggio che vogliamo lanciare è quello di restituire un po' il piacere di fare shopping il piacere di passeggiare all'aria aperta di non chiudersi quindi in delle strutture fisiche ma stare all'aperto visitare il nostro centro storico il nostro lungomare 24, 25 e 26 novembre un lungo weekend venerdì sabato domenica che cosa avete organizzato? è la prima vera grande manifestazione organizzata dall'associazione dei commercianti da Vivi Amantea riguarda il Black Friday seguiranno tante altre iniziative poi durante gli altri mesi dell'anno ma adesso poniamo l'attenzione su questo 24, 25 e 26 quindi venerdì sabato e domenica tanti negozi con promozioni e sconti imperdibili per aprire un po' la campagna natalizia e oltre agli sconti delle promozioni tanti eventi tante manifestazioni lungo i due corsi principali che sono Via Margherita e Corso Vittorio Emanuele venerdì in particolare troverete una parata fantastica di 135 ballerine che partirà alle 3 del pomeriggio del lungomare attraverserà poi la strada principale di Amantea sono tutte le scuole di danza del territorio messe insieme faranno questa super parata e poi si divideranno nelle varie piazzette per continuare con i loro spettacoli di danza sabato abbiamo ben 15 spettacoli diversi tra animazione giochi popolari e musicisti gruppi musicali domenica invece ci siamo un po' dedicati ai bambini quindi ci saranno dei giochi per bambini in piazza Cappuccini e delle mascotte che girano per Corso Margherita il pomeriggio e la mattina in particolare c'è un altro evento che è il trekking urbano quindi offriamo ai più volenterosi la possibilità di passeggiare per le vie principali di Amantea visitare il nostro centro storico che è bellissimo insomma un invito a recarsi ad Amantea che è una cittadina straordinaria turisticamente molto interessante e a fare anche buoni affari dal punto di vista degli acquisti per questa edizione del telegiornale è tutto Infostudio torna alle 19 e 20 a più tardi a presto a presto Autore dei sovrapposti